Senatrice Papateo, un commento sul voto che si è appena svolto e soprattutto lei come continuerà le sue battaglie, quali sono i suoi progetti futuri e un'ultima cosa, come commenta la diminuzione delle parlamentari donne in questa legislatura? Esatto, e da qua partiremo. Io ho ovviamente un'esperienza importante che è stata non solo quella di senatore ma anche nel passato di dirigente alla regione mi sono sempre occupato di questa disparità che purtroppo oggi risalta anche con le elezioni che ci sono stati perché abbiamo visto che solo un terzo di donne sono state elette. Naturalmente il ruolo che penso che potrò occupare è quello sempre legato alle mie competenze e sicuramente il garante magari delle pari opportunità potrebbe essere un ruolo che potrei occupare anche alla regione Sicilia e ho consigliere giuridico in un ministero qua della famiglia se ci sarà la possibilità, l'opportunità che Forza Italia occupi di questo ruolo e quindi è ovviamente una valutazione che sarà in etinere. Io ci sono, vorrei continuare a portare avanti le battaglie come le ho sempre fatte per le donne e con le donne.